salve a tutti legati e benvenuti in questo nuovo video di minecraft della progettoso 3 bene oggi cosa andiamo a vedere? dobbiamo fare un sacco di cori ma ne ho sempre tanti da dirvi non riesco a fare tutti gli episodi quindi ci vorranno certa partita da parte vostra è stato impegnato da parte mia ma non perdiamoci in chiacchiere e cosa facciamo per fare le nede star ci sono vari modi in questo pack io ve ne illustrerò alcune poi voi dopo decidete come fa in modo migliore io adesso vi faccio vedere prima di tutto quello con la mistica di calcio poi quello che ho avuto successivamente e poi altri modi se ce ne sono mi informerò e vi cercherò di spiegarlo al meglio ma adesso andiamo a vedere come si fa a creare il seme per poter far sì che dopo crescano rigogliose ci vuole lo step successivo il premium che si fa con quattro di queste che noi vedete che io vi servivano col cristallo antecedente per adesso dobbiamo fare gli step passo per passo poi quando avremo quello definitivo sarà in unbreakable e universalo e quindi saremo posti per adesso dobbiamo passare tutti gli step quindi andiamo a prendere questo perfetto si fa così mettiamolo via questo e lui dovrebbe darci una quest teoria ce l'ha dato perfetto e questa è la base per poter fare cosa? lo step successivo è quello dopo ancora che adesso questo non lo facciamo ma dobbiamo fare questi perché dobbiamo fare questi perché noi una volta che abbiamo fatto il che dobbiamo fare il seme per fare il seme ci vuole lo step successivo perché un tiro superiore a un 6 addirittura mossa all'ostia dei un paradro e quindi è bello potente per fare questi appunto ce ne vogliono 4 quindi 16 delle rosse non è una cosa proprio poca non ho fatto fatica a farle però insomma 4 e 4 perfetto ok questo è mettendo da parte perché cavoli è stata dura e quindi adesso andiamo a fare con il seme perché ci vuole anche il seme perché abacca altri 4 no questo è 4 più il seme 4 e io non mi bastano quindi devo andare a maturare la tua scheda tante tante volte è un bel casino lo farò e mi tocca far così va bene intanto facciamo il seme cioè facciamo il tier 6 che non abbiamo visto come si fa si fa si passa da dietro tutti quanti quindi andiamo a farlo vedete step per step io adesso un po' di roba da parte ce l'ho ovviamente ma non basta quindi andiamo a vedere questo il 4 e il 5 che era questo che non so se l'avevamo mai visto il 5 vediamo se ce lo segna sì il 5 ce l'ha segnato perfetto ce l'ha segnato sia quello che l'altro per zoom no solo questo ok già da qui si fa un sacco di roba però dobbiamo andare a quello dopo ancora che lo possiamo fare vedete qui possiamo fare il diamanto che già vi ho detto tutto però non ci serve quello dopo e quindi andiamo a farlo addio ai crop e abbiamo fatto dio l'icona non la vedo però mi figlio ah è sopra ok e quindi grazie a questo con altri 4 di questi che non abbiamo possiamo fare tante 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 oh cose interessanti quindi devo farne eh devo lavorare parecchio oddio posso provare a fare i step uno per uno finché non ci arrivo con questi tanti saluti ci posso provare dai ci faccio un po' e poi ci vediamo fra poco eh non è che mi si è sbattuto poco eh porca miseria ho dovuto fare un sacco di volte il primo cristallo una miriade di volte perché il crapetto mi produce tanto non è un problema il problema è che questi qua basici non durano un cazzo e quindi devo rifarli ogni volta è una bella palla eh fai qui e fai lì però ci hanno fatto ho sentito rumori strani non c'è niente vero? ok allora eh sì ce l'abbiamo fatta mamma mia 4 ore di star le mangiamo adesso sono ovviamente sono qui da un bel po' eh abbiate impazienza c'è avuto un po' potevo farlo con guida per carità però insomma non so il tempo che ce l'avevi messo e poi le risorse invece qui tutto qua allora cos'altro le eh queste ci servono così vi faccio vedere tutte le basi dopo voi decidete come fare eh il seme ok fatto poi cos'altro quel bocchino l'abbiamo fatto non mi ricordo più eh la base no perché ha bisogno di una base che è questa che ci vogliono 4 di quei rossi che dovrei avere col cazzo mal risposto quindi devo fare anche 4 rossi beh sono tanto felice ma porca vacca ma è possibile che io non sappia mai contare eh vabbè ci vediamo dopo ah vero male li avevo adesso li sto trasformando ho fatto i calcoli un po' così a mente sapete che io non so calcolare vero no perché chi uno dice ce l'ho fatta gli aiutami te eccoci qua abbiamo siamo usciti fuori per fare questo qui non ci credo vabbè eh questa la poi devo farne altri ovviamente adesso piano piano da te mi fa senso da te mi un attimo farò tutto allora abbiamo fatto questo abbiamo fatto questo adesso vi dico eh come funziona eh perché funziona allora in un modo un po' diverso prendiamo un secchio lo riempiamo d'acqua prendiamo la zappa prendiamo la glowstone perché bisogna che lo usa eh così cerco di fare un po' tutto per spiegarvi al meglio speriamo di non fare la cacata da dove cazzo lo faccio allora per il momento lo metterò adesso mi sono ciucciato il mondo avete pazienza lo metto un attimo qua per farvi vedere bene allora ehm riattiviamo oddio scusate questo è qui in attico il piccono adesso vi spiego poi dopo troverò un loco eh adesso ci penso che cazzo mi sono tirato su che non c'è niente in mano vabbè eh vediamo metto qua un attimo lo so che è brutto ma devo spiegarvi non devo fare la stanza bella eh ci va hm sto pensando eh ci va questo allora facciamo una cosa vagamente intelligente che se no la faccio la faccio brutta eh già già vi deve di merda perché è in mezzo però almeno facciamolo un po' decente eh i secchi ovviamente io non ce l'ho messa l'acqua perché cioè meglio avere un secchio vuoto no? e porca vacca eccoci qua ok facciamo una cosa diversa eh il piccone grazie perfetto eh facciamo così così adesso andiamo un attimo qua ecco qua che bello volare sì non funziona sempre sto caricatore ma avevo detto basta eh se vedete che non funziona fate così così e lui si ritorna al 100% senza problemi ok a posto adesso mettiamo il nostro coso qua perfetto ci mettiamo eh questo qui ce lo ricordo malo poi lo idratiamo e vabbè adesso lo farò eh adesso pieno pieno datemi un attico per far bene tutto eh non ricordo esattamente se l'acqua posso andare anche sotto però adesso per sicurezza facciamo così ok e adesso eh i crop dobbiamo farli allora per farli livellare non c'è bisogno che penso eh credo che non ci sia bisogno mi sono succhiato tutto lo so che non ci sia bisogno del per forza il preset completo oddio stavo buttando via quello ma basta ma basta quello lì vicino vediamo se è vero eh questo lo mettiamo a posto sto cercando di fare più veloce che posso così vi spiego ok quindi questo qua e la zappa grazie in teoria a livello puramente teorico eh dovrebbe funzionare lo stesso anche se non dovrebbe crescere ma funzionare sì quindi questo è di livello 1 1 1 se noi andiamo a vedere andiamo a vedere qua ah l'ho fatto qua se vuoi incoglionito vediamo a vedere lui lo analizzerà e ci dirà a che tipologia appartiene in questo caso 1 1 1 ok se io volessi farlo crescere per ottimizzare il raccolto così perché visto che per farlo ci vuole la mano signora lo proverei a fare vediamo se è vero e lo dico una cacata allora qua può crescere senza problemi però teoria può anche moltiplicarsi senza che cresca a livello teorico vediamo se è vero aspettiamo e se no mi tocca fare un altro di quelli vediamo un po' certo punto parte eh mi sa che devo farlo allora e niente allora evolvere non si evolve però vediamo se si moltiplica si moltiplica ok è già qualcosa vedete non cresce invece l'altro è cresciuto è già qualcosa perché noi ne abbiamo un altro adesso è sempre 1 1 1 non possiamo far sì che si moltiplichi però vedete ne ho un altro cioè lo possiamo far sì che si evolva perché dobbiamo fare un altro di quei cosi qua di questi qua però già possiamo farne diversi e non è male questi cegliopi mi mancano solo quelli piano piano li posso fare magari accedo 4 volte il boss così posso fare l'evoluzione e magari portarlo 10-10 questa è una cosa che mi interessa fare quindi purtroppo a 1 1 vedete non è uscito un cazzo e esce 1 1 ogni tanto di questi che per carità cresce in fretta vediamo quanti il problema è che con l'uomo di questi facciamo un frammento e con 3 frammenti facciamo una nandestare cioè per carità si fa uno sta qua ti hai riprimuto il mouse qui e se ne va a fare una passeggiata quando torna non è morto si è fatto una bella scorta però non è questo che io sto puntando 9-18-27 quindi adesso noi avremo in teoria già una stella del nether vediamo se è vero vediamo se è vero se i conti li ho fatti bene stella del nether perfetto funziona e sono contento vi ho fatto vedere come va e bisogna per farlo moltiplicare bisogna per forza avere un'altra base di quelli che farò sicuramente ma non adesso perché devo spiegarvi un po' di cose scusate ho cercato di spiegarvi il meglio che posso però almeno l'avete visto che funziona e questa è una cosa allora adesso noi dobbiamo fare dobbiamo arrivare a fare le altre quest ovviamente sì è vero perché ci sono da fare queste per arrivare a questo perché così ce le sblocca però non è che siamo obbligati cioè nel senso è bloccata la griglia vedete io clicco dice requisite planter devo far forza questo e si fa non è un problema posso anche andarlo a fare vediamo se sì dai le facciamo volevo farvi vedere un'altra cosa ma visto che il crafting è così semplice vediamo qua come è messo siamo pieni ok perché qua è pieno presumo ok allora per evitare io perché avevo fatto un dramma l'altra volta perché volevo evitare che quando andavo via tutto il liquido andasse cioè non fosse sfruttato e quindi cosa faccio faccio così tac e lui almeno il liquido in eccesso va qua e siamo a posto comunque sia questi qua lo prendiamo due e lui continua a fare tra quello e quell'altro dovrebbe essere a posto allora questo qui come si fa andiamo alla fornaccio che è questa prima la griglia grazie eccoci qua lo trasformiamo questo qua così perfetto ne fa 14 e lo andiamo a cuocere in teoria a livello teorico se è vero quello che ho detto e non vedete una cacata dovrebbe essere 28 ovviamente lo stick è finito se non faccio la figura di bella video non sono io non c'ho niente ma porca vai prendiamo quello so che è un spreco però insomma è sesso potrebbe mettere il tani ciarco così tanto dura una vita cioè non è che abbiamo l'imosina di nuovo sesso per me ha raddoppiato vedete c'è una figata da fornaccio senza fine e siamo a posto mangiamo che ci stiamo sfondando vedeteci qua ok e siamo a posto abbiamo fatto già una cosa importante adesso abbiamo la base per poter far sì che funzioni il nostro macchinario allora cosa ci servirà per fare questo coso ovviamente se non lo metto tra i preferiti lui dice che cazzo dice insomma ci vogliono due di questi e siamo a posto i due piccioni io li ho già fatti e le are unghiera ovviamente se andiamo a prendere i piccioni che dovrebbero essere qua ho detto che casino che ho a fare lo storage ragazzi eccolo qua quindi lui già me lo conta se io vado qua cosa mi dici che manca questo fare questo è facile così e per far questo dobbiamo fare ancora questo che dobbiamo fare questo che oh abbiamo tutto che bello quando abbiamo tutto sono contento perfetto intanto l'avevo lasciato lì dalla volta precedente insomma eccoci qua ed eccoci qua questo è il plant accetta un raggiadone massimo di 311 questo qui è il plant in teoria dovrebbe piantare quello che noi gli diciamo da solo in automatico ed è molto interessante e in base all'addome che gli mettiamo lui metterà l'aria ovviamente dobbiamo metterci su un terreno fertile se no che cazzo pianta sul cemento fa fatica però insomma ci fa il lavoro a posto nostro per fare le farm vanille e altre sono molto utili si potrebbe usare anche per queste ma io le ho portate 10 10 10 quindi userò quello dopo quindi cosa è però adesso a me non serve magari ve lo farò vedere come funziona ma a me non serve devo andare su questo finalmente ce l'ha sbloccato per far questo è un po' un dito in culo perché oltre ad aver questo che abbiamo e questo che si fa bene tanto il ferro ne abbiamo un sacco e questo che il platino ne abbiamo che l'ho fatto già l'ho messo da parte ma ne avevo un sacco perché l'abbiamo faccio vedere allora questo lo togliamo e andiamo qua questo qua lo possiamo fare siftando come l'ho tenuto io questo platinum adesso ve lo faccio vedere eh trovato da questo e noi questo l'abbiamo ottenuto da questo dal sift siftando la dust siftando la dust abbiamo ottenuto questo platinum si era poco però a fuori di siftare continuo a ottenerlo ancora perché ce ne sarà sicuramente qua da qualche parte l'ho già cotto e già preparato per l'uso questo che cazzo ci fa qua no non lo so e quindi io quello ce l'ho già e non è un problema l'ho messo le gear da qualche parte qua chissà dove ma dovrei avercele forse qua le ho messe esatto il problema non è quello il problema è che per far questo è lo stesso siftando già preparato questo è già preparato e abbiamo tutto adesso sono qua però ci manca questo e per far questo ci vuole il macchinario quindi per fare quel macchinario io ho già preparato una stanza vi faccio vedere l'ho messa qua è un 11x11 perché quel macchinario aveva bisogno anche della sua elettricità e quindi doveva fare anche un solo al pane allora adesso andiamo a fare questo qui che è la press che vi dicevo che è molto semplice con un lingotto e un pezzo di paper allora vediamo un po' dovevi avere la paper già però in caso non ce l'abbia ok ce l'ho quindi se noi andiamo qua più o meno ci farà vedere come metterlo ok ok vedete è così il macchinario però volevo metterlo un po' meno un dito in culo nel senso allora vediamo se ci stiamo ho fatto bene le misure perché sapevo che era così però così no perché dopo di qua ok uno più in là va bene sto cercando di metterlo in modo che ci possa passare anche dietro capite così se c'è qualcosa siamo a posto ok adesso che abbiamo fatto questo ci serve la roba allora questo è il idraulic press l'idraulic press è qui da qualche parte quindi dobbiamo andare a vedere dove l'ha messo perché mi ci dirà esattamente cosa fare adesso lo cerco e vi dico e niente l'ho trovato comunque c'è lo fa vedere qua i pezzi che ci vogliono sono abbastanza semisemplici adesso non ricordo come trovarle comunque andiamo a vedere la moda ho fatto anche il grinder per dopo la moda è la magnetic craft vediamo un po' magnetic craft ovviamente scrivo malo che ci volete fare eccoci qua e servirà vedete per fare queste press qua ci vuole appunto questo macchinario qua adesso questo non mi dice esattamente cosa vuole però basta andare sopra vedete questi sono i iron grate machine gli iron grate machine sono iron eccoli qua sono questi quindi non c'è problema allora quanti vuoi che ne faccia te ne fa quattro una volta le avevamo già un po' da parte per carità però insomma si adesso andiamo a fare un attimo siamo qui vicino e li facciamo di qua guardate sono due passi allora voleva ovviamente l'iron eccoci qua e le gate scusate le gate vediamo un po' si le gate che avevamo gli iron bust a qualche parte qui me lo ricordo vediamo se ne abbiamo ancora ah abbiamo già un po' di qua siamo a posto però gli iron gate non ne ho più le devo fare va bene facciamolo non c'è problem eccoci qua facciamo anche un altro po' di questi e tanti salustri la stone la stone cisellata se non ricordo male questa qua lui la vede come stone cisellata e non dovrebbero essere problemi eccessivi ok andiamo scusate cerco di fare meglio che posso eccoci qua posto poi facciamo non è questa o è la stone normale non vuoi la stone cisellata allora poca vacca dillo prima no eccoci qua e ce l'abbiamo spero sia quella meglio la mamma va bene vediamo un po' se ce la facciamo si ce la facciamo ne faccio un po' che non so effettivamente quanto ne voglia e così siamo a posto poi andiamo a metterle così vediamo gli fa sto buttiblocco e siamo a postolo ok qua 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 vai vedete non vi potete sbagliare perché comunque lui dà l'ok poi e vediamo un po' come sono fatte qui così vedete finché dà l'ok che non dà problemi vuol dire che è giusto vedete che quello è già diverso questo è così questo è così e quindi vedete che va questo qua vedete che non dà problemi io così l'ho capito se no col cazzo che lo capivo copper coil vedete che c'è scritto sopra allora copper coil allora vediamo un po' copper coil copper coil ok il copper coil è questo machine quanti ne voglio di questi beh sembra facile le cose che abbiamo sembra che ne voglia due ok noi il copper l'abbiamo qua bronze e copper eccoci qua ne abbiamo un po' andiamo a vedere come farlo e siamo a postolo bene vedete che cosa non è carico se noi facciamo un attimo così così è già carico non so perché però è così che ci devo fare cercherò di capire allora cosa vuoi ancora il tungsteno ma ne abbiamo un sacco e lo andiamo a prendere qua tungsteno titanio tungsteno perfetto ottimo abbiamo tutto questo lo posso anche togliere e grazie lo posso anche togliere e infatti mettiamo questo ne vuoi copper coil machine block dovrebbe essere questo cioè in teoria se ho letto bene è così copper coil machine block esatto quindi andiamo a mettere quello che ci ha chiesto come lo vuole lui mi raccomando ok vedete che è colorato giusto e in mezzo corrugate che cazzo di nome è sto coso corrugate che cazzo mamma mia che brutto nome eccoci qua il corrugato come col compactor vabbè il tusteno col compactor il compactor l'abbiamo qua abbiamo fatto una vita fa devo ricordarvi anche dove l'ho messo qua compactor via questo via questo compactor 4 non mi ricordo più 2 come al solito io non so contare 1 e beh ce l'abbiamo fatta alla fine non con poca difficoltà però insomma ve l'ho spiegato ve l'ho fatto vedere più che altro ho fatto vedere che se l'ho spiegato un po' malo lo so avete pazienza il corrugato e lo zinchio mi ci va lo zinchio ma porca vacca lo zinchio dove era alluminio iridio silver sono sicuro di avercelo però non ricordo dove l'ho messo lo zinco lo zinco come lo otteniamo sicuramente eccolo qua lo otteniamo siftando la sabbia quindi lo zinco ce l'ho sicuro non l'ho cotto ma ce l'ho allora vediamo un po' così almeno vi faccio vedere come prendo tutti i materiali così almeno se avete qualche dubbio zinco ne abbiamo anche tanto quindi se io facessi una roba del genere 16 lui me ne fa 32 giusto? eccoci qua ne ho degli altri qua scusate così troppi c'è 32 ne fa 64 e sei stato veloce ok abbiamo tutto possiamo fare questo che cazzo non si chiamola sto coso qui mi ricordo la cordocose eccolo qua ne vuole due lo vuole dritto non ci hai detto il senso ecco qua fatto poi cosa vuoi? support coil invalid block support coil support coil è questo non riuscivo a capire che cazzo fosse ci vuole delle piastre di tungsteno bisogna che le prepari un po' di cose dai facciamo le possibilità se non lo faccio troppo lungo e comunque ormai è finito ci vanno un sacco di queste piastre che le devo preparare sono tante e poi ci va quella centrale che vedremo che cazzo è perché non ho idea e quindi si la guardo lo texture quella è che cambia è questa e ci vuole un sacco di tusteno e blocco di aria preparo tutto così nel prossimo episodio ve lo faccio vedere come si crafta e creiamo il macchinario così vi spiego anche il solar pane che è un'altra cosa che devo fare assolutamente di questa bella mod solar eccolo qua che è il solar pane che è anche una questa l'altro così dopo vedremo come fare vi spiegherò bene tutto quindi ragazzi abbiate pazienza vi invito come al solito a avere anche il commento se vi piace la serie e farvi sapere cosa ne pensate per il momento avete assoluto la sciva ciao ciao ciao